Musica Con la serie a femminile ferma dopo gli impegni della Nazionale in Raduno a Roma, i riflettori sono tutti accesi sui tre gironi della serie a maschile nel weekend dell'8 ottobre, il consueto programma di 13 sfide e classifiche che partita dopo partita prendono forma. Il match of the week ci condurrà alla palacavina di Imola, scenario della sfida tra Romagna e Luciana Mosconi-Dorica, ma soprattutto terzo appuntamento stagionale in diretta su Palamano TV. Classifiche ancora corte, distanza minima e gradatoria tra le due formazioni, appena tre punti, coi padroni di casa reduci da due vittorie consecutive, i marchigiani che dopo il turno di riposo del 24 settembre hanno aperto la loro stagione sabato scorso, centrando subito un risultato positivo contro il Rapid Nonantola. Romagna-Luciana Mosconi-Dorica è dunque il match of the week, si va in onda alle 18.30, arbitra la coppia Simone Monitillo, diretta, come detto, sul portale www.pallamano.tv per la web tv della Federpallamano. Il programma della terza giornata propone però anche altre sfide di interesse, nelle girone A occhi puntati su Brixen, Principe Trieste, sfida dal sapore storico, oltre che sulla trasferta del Bolzano in casa del Cassano Magnago. Nelle girone C, due le sfide da cerchiare in rosso, il derby pugliese che oppone Juno e Raffasano in noci, e il match tra Team Network Albatro e Conversano. Quello che ci aspetta è un nuovo sabato di emozioni sui campi della massima serie. Buona palamana a tutti! Grazie a tutti!